Volti nuovi, volti giovani, un volto femminile, quello appunto di Silvia Di Taranto, neo-assessore del comune di Leporano. Con quali deleghe? Alle politiche sociali, principalmente, servizi alla famiglia, al cittadino, associazionismo, servizio sociale, servizi cimiteriali, politiche della famiglia, quindi una serie di deleghe che mirano proprio al welfare. È un impegno certamente pesante, considerando il momento difficile che vive l'area ionica, la comunità Leporanese, saper dare risposte ai cittadini in stato di difficoltà. Assolutamente sì, ma credo fortemente nel progetto che abbiamo. Abbiamo validi collaboratori, le idee ci sono, quindi credo che non ci saranno problemi a offrire al cittadino quello che effettivamente merita, soprattutto alle fasce più deboli.